vuoi vincere devi amare se non siete innamorati di cristo innamoratevi allora come puoi la bibbia dice anche come puoi amare dio se non lo vedi e amare e non amare il tuo fratello che vedi c'è un controsenso tu non puoi avere comunione con dio perché preghi e allora è comunione con dio quello non vale se tu non ce l'hai col tuo fratello quella comunione intima che tu hai di dire di avere con dio non la puoi avere nostro padre vuole che sei gioioso che siamo gioiosi gioiosi cosa vuol dire lui ha pagato è morto e risuscitato in modo che la chiesa i suoi figli siano gioiosi e quando dici come stai ho la gioia dell'eterno